Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Gran Turismo 7 per continuare quelle che sono le missioni e in realtà continuare insomma tutto quello che ci aspetta allora inizierei quest'oggi con Beyond the Horizon, oltre l'orizzonte, abbiamo sempre otto sfide, sono tornati indietro vero? si sono tornati indietro, comunque abbiamo da fare quelle missioni e poi ci andremo a fare le sfide della pausa caffè dove abbiamo da prenderci in tre gare le nostre muscle car, le sfide da fare sono sempre otto inizierei con tramonto a Goodwood, il sorpasso su auto storiche con la 356 A1500 DS Carrera del 56 va bene, ok, ci siamo, pronti a partire vediamo un attimo come... ma buona quanto è bella però eh all'esterno così possiamo spingere, possiamo spingere ovviamente queste sfide che ci richiedono molto impegno, ce le facciamo magari appunto con la visuale questa esterna per avere ovviamente quattro marce, andiamo a sorpassare la Honda S200 aggredisci bene il cordolo attenzione alla Bertone metti in terza e vai così, scavallala vai così, aggredisci il cordolo ok, ecco il traguardo molto... molto semplice da raggiungere ci portiamo a casa questa prima tappa perfetto missione numero 2 uh, siamo con la Nissan GTR ah, ok, partono uno... uno alla volta ok, e se l'allero un giro solo ok, noi abbiamo la GTR che è molto più... più potente partiamo a distanza di 5 secondi vai andiamocele a riprendere con questa potenza incredibile mamma mia senti come cammi ovviamente abbiamo molta più velocità, eh 15 secondi a recuperare in un giro ce la faremo? non lo so ma noi ci proviamo fino alla fine ah, ok, ok non fallisco però mi... come l'ho buttata male è vero, abbiamo l'esporto medio comunque non abbiamo... non abbiamo gomme chissà quanto performanti ok infatti anche qua mamma mia se tiene poco poco tiene poco la macchina con queste gomme già che sono le medie non sono le dure ok è già qualcosa ma... ok l'auto è a 4 secondi e 8 e 7 e 6 vai così vai così abbiamo la staccata e poi il rettilineo dovremmo riuscire a farcela, eh perché comunque abbiamo tanta potenza ok è bella sui 200 potevamo spigolarla un po' di più buono per fortunatamente questa attrazione integrale e ce ne andiamo vabbè a parte il panico lì alla prima curva perché ho provato a staccare ai 150 metri ma assolutamente sbagliato come punto di staccata per il resto è andato tutto come doveva andare ok eccoci qui per questa sfida dobbiamo raggiungere i 250 km orari siamo di nuovo sul tracciato del Tokyo Expressway quindi penso che avremo tutto questo rettilineo da sfruttare o quasi vai, 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 vai sfrutta la scia sfrutta la scia no, l'ho urta eh, niente dovevo scansarmi non c'ho vai così sfrutta la scia 249 ma un chilometro orario eh ok tocca riprovare andiamo avanti con la quarta tappa due giri a Suzuka una gara sul bagnato con la Civic dove sarà insomma un po' un po' tosto anche perché appunto guardate com'è girare è impossibile poi la sfida quella lì della velocità intanto l'abbiamo mantenuta argento andiamo a fare le altre poi proviamo magari a rifarcela perché ho visto che insomma si arriva a 249 km orari è difficile fare l'oro lì di quelle sfide in seconda all'esterno della Supra la Fire Lady che scoda come se non ci fosse un domani in seconda gridisci vicino al cordolo e riesci con calma anche se abbiamo molta più accelerazione quindi let's go non si deve mai affondare tutto ma bisogna pelare oltre che l'acceleratore anche il freno si stacca forte poi si rilascia adeguatamente come sempre ovviamente ma sul bagnato un po' di più ok bene così ovviamente non abbiamo neanche traction control si aggredisce qui si sfrutta tutto ok dentro la Subaru dentro anche la Lanza e Rivo in velocità in allungo in progressione abbiamo più velocità bene così 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 la fai scorrere ristringi e e si va si porta a casa facilmente bene 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 perfetto 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 ok pronti a patere dobbiamo battere 20 coni questo è una sfida apparentemente facile più o meno ok non ce l'ho fatta in 15 secondi no davvero ma mi sembrava di avercela fatta ero proprio lì sul traguardo vabbè non so se l'ho missato o se l'ho preso 17 non li ho presi ma com'è possibile non l'ho preso ma per come fa a non prenderlo che lo prendo chiaramente va bene ragazzi dai buttiamo giù questi conetti non ce l'abbiamo fatta a mio mese a parso di avercela fatta anche nel tempo prestabilito vedi non lo prende non lo prende non lo prende oh ce l'ho fatta adesso bastardo maledetto ok qua si deve derapare ora noi abbiamo fatto una serie sul drifting quindi insomma ora magari la pista appunto non era non era questa dobbiamo capire un attimo come è l'auto come al solito però diciamo che insomma eh ok forse in terza è troppo forse in terza è troppo però in seconda è troppo poco ok ok capiamo un attimo e qua si va troppo stretto devo partire un po' più largo 6.840 6.840 6.840 sì ma se può fad se può fad è più ma se può fad è più ma assolutamente si può fare di più non si tiene non si tiene è completamente impossibile da gestire ok fatto 7.242 vabbè ok ok vabbè vabbè l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta perfetto perfetto ok siamo su un rally con l'audi sport 4 pick pick un'auto inutile dire ecco inutile dire potentissima e con cui dovremmo cercare di evitare i nostri avversari quest'auto spinge come un'assassina però tocca anche saperla controllare perché se no davanti c'è una lancia stratos bene non ti mettere da madonna eh vabbè oh e va a due all'ora io se accelero la riprendo però si mette in mezzo i coglioni ok concentrati dai vabbè ho colpito una barriera ma l'ho appena neanche sfiorata mamma mia quanta fiscalità le disegente ma siamo matti ok incrociamo la traiettoria qui la ascia perché se no la barriera non ce la toglie nessuno non mi toccare maledetta no barriera e lo sapevo io lo sapevo lo sapevo piano piano con calma ok vedi 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 bastava avere pazienza perfetto bastava avere pazienza a posto fatto andiamo avanti ok abbiamo carburante ridotto dobbiamo effettuare un giro due tre quattro cinque eh dobbiamo passare di otto decimi vabbè se può fare se può fare però purtroppo ok si può fare ma eh no ho passato di quattro decimi eh no devo essere più veloce attenzione attenzione proprio per il secondo buona partenza dai così possiamo mettere anche in sesta sfruttiamo la discesa e utilizziamo la mappatura più potente per il tratto in salita che c'è tra poco vai così vai così vai così ce l'abbiamo ce l'abbiamo il vantaggio ok dovremmo esserci ci dovremmo essere perfetto 24941 a pelo ma l'abbiamo fatto abbiamo sbloccato la civic type r limited edition ok grazie a tutti bronzo ma c'è rimasto comunque una prova una prova da fare ovvero che sarebbe ok ho metto il livello alpin ma c'è rimasta una sfida ho veduto questa della scia di provare a fare oro qui ci riprovo proviamo vediamo dai però c'è arrivo 249 non va di un chilometro orario in più madonna sto lanciatissimo per l'eserciatissimo per l'eserciatissimo per l'eserciatissimo si ok ok ce l'abbiamo fatta a posto avete visto il tentativo quello buono ok ve l'ho rimesso alla fine perfetto l'abbiamo fatta andiamoci a prendere quindi il nostro compenso di tutte quante oro il nuovo record perfetto che auto ci dai l'elix 7 ok perfetto bene va bene va bene va bene va benissimo va benissimo ok tutte oro perfetto allora l'abbiamo fatto le sfide ovviamente ve l'ho tagliate molto molto rapide spero abbiamo la collezione mustang da fare da etona international speed per gli stati uniti dobbiamo prenderci queste queste tre auto facciamoci queste garette al volo giusto per mettere anche un altro po di pepe in questo in questo video e poi concludiamo allora prima di partire con le gare però dobbiamo andare un secondo a messa appunto iniziamo a comprare intanto l'esport morbide intanto la alleggeriamo mettiamo le le sospensioni quant'è mille e tre la abbassiamo un pochino e io penso che penso che così può andar bene ci buttiamo a un filtro dell'aria arriviamo a un milione e cinquantamila crediti precisi dai pompiamola un po ma io penso che così ci siamo almeno abbiamo già le gomme che tengono molto di più delle comfort medie abbiamo le sport morbide quindi possiamo già cavarcela un pochino meglio sulle curve andiamo a vedere che gare possiamo fare ok questa laguna seca e willow springs dobbiamo provare a fare questa se riusciamo a prenderci la mustang poi l'utilizziamo per le prossime gare non sarebbe affatto male ci basta arrivare terzi o superiore abbiamo le gomme quindi abbiamo le gomme più performanti mi spieghi come è possibile che io ho frenato io ho frenato io ho frenato io ho frenato e l'auto se n'è andata cioè io freno l'auto vola via l'avevamo vinta e invece no e invece rieccoci qua di nuovo però che dire buttacelo contro la trazione 1 noi peliamo sempre il gas per sicurezza però metà seconda all'esterno doppio sorpasso alla mustang ci sono vabbè questa pista poi vabbè piena di dislivelli per carità però insomma manca a far così madonna ma siamo mati voglio vedere se anche dopo però me la tiene così oppure no voglio vedere abbiamo il terzo posto qui davanti scontro fra mac 1 e charger all'esterno all'esterno qui davanti vabbè sempre la viper come prima staccatona ci infiliamo o ok estamos ok siamo portati a casa e ci portiamo a casa anche la mustang del 2015 perfetto perfetto va bene così ok auto maggi ottenuta, perfetto ok andiamoci a fare il Blue Moon Bay ovviamente cambiamo auto e ci prendiamo questa guardate qua, è decisamente molta ma molta più potenza, quindi let's go per prenderci la Mustang Boss 429 del 69 che mica male mica male ok let's go guys io ho un controllo trazione 1 e glielo metto visto che abbiamo un mostro di potenza penso che qui insomma utilizzare questo auto sia la scelta migliore visto che è una delle delle più potenti se avessimo utilizzato l'auto di prima qui dove è tutta velocità non penso saremo mai riusciti con il nostro obiettivo vai così la Fireboard se ne va passiamo anche la Corvette tre giri, tre giri si deve spingere allora io comunque vedevo dirvi che ho fatto molta asci di pippo ho fatto la l'esperienza circuito su questi ovali così per provare ovviamente non ti regalano auto e quant'altro ma fai solo è solo comodo per fare i crediti volendo più avanti su qualche pista più particolare potremmo anche farcele farcele insieme però non lo so comunque le ho già fatte le ho già fatte su Gran Turismo su Gran Turismo Sport se vi interessa però fatemelo sapere quindi mi raccomando utilizzate quella sezione sotto commenti se volete vedere anche i giri cronometrati su delle esperienze circuito fai così non so perché madonna mia comunque non la tieni 3 secondi dobbiamo recuperare 3 secondi ma dovremmo farci tecnicamente allora stiamo guadagnando da davanti beh no anche un pochino anche dalla Viper che ovviamente recupera un po' su sulla sulla Camaro lì davanti vai 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 con la scia vai con la scia sfrutta tutta la scia e comunque anche quella Camaro eh sai il fattaccio suo vai così con sportellata con sportellata stile NASCAR eh non passi non passi eeeh ce ne andiamo a vincere ok va bene pensa con la Camaro di prima ma quando la vincevi ok ecco qui la Mustang Boss mamma quanta è bella mamma quanta è bella mamma mia ultima gara laguna seca per la Mustang Mach 1 ok io la farei sempre con questa qui perché comunque è una delle migliori la Mustang Boss del 69 si ok sarebbe bello provarla perché sarebbe bello provarla magari quella la potremmo potenziare per le gare di accelerazione perché abbiamo le missioni da fare con le gare di accelerazione dove dobbiamo utilizzare le nostre auto da garage ora abbiamo anche questa Mustang qui però potremmo preparare una bella Mustang Boss da accelerazione bella aggressiva o anche una Mach 1 chi può dirlo bene 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 ok dai iniziamo iniziamo allora abbiamo tecnicamente anche un paio di livreti a scaricare sia su questa Mustang sia sulla Mach 1 qualora la vincessimo ma comunque non è che abbiamo alternative la cosa è andarcela a vincere quindi vai così vai così vediamo la Camaro due giri sulla laguna seca difficile ma non è impossibile bello scavalcare così il salsicciotto di precisione vai così bello 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 faccia la corvette qua davanti che madonna mia a 2 all'ora fortunatamente la pista è abbastanza lunga mamma la staccatona qui a sfruttare tutto a pelo sulla viper lì davanti cosa ci sarà un'altra mustang penso ah no forse la super bird no la charger rt credo vai così eh comunque accelera accelera la maledetta vai così andiamocela a prendere perché si che riusciamo a fare l'obiettivo ma non facciamo il primo posto poi io dovrei mettermi qui a rifarmela per andarmela a vincere e farmi la la coppa d'oro sinceramente allora approfittiamo adesso lui vilar con la charger rt infatti è proprio lui a scavallare il salsicciotto ce la portiamo in testa questa è l'ultima gara di oggi poi ci andiamo a ritirare un po' lunghi un po' lunghi ma va bene va bene va bene l'abbiamo tenuta l'abbiamo tenuta questo è l'importante perché se non l'avessimo tenuta sarebbe stato un disastro avremmo dovuto rifarcela e sinceramente preferisco proprio di no la mia la mustang è incredibile e si va a vincere perfetto abbiamo fatto l'affare a prendere questa come prima auto abbiamo un po' sofferto lì però l'abbiamo potenziata quella camaro e ok ci prendiamo anche la mustang boss perfetto ladies and gentlemen che dirvi io credo che vi posso salutare qui vi invito a lasciare un like un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Gran Turismo 7 ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul mio canale intanto adesso andiamo al caffè per ritirarci il completamento del menu ci parlerà delle mustang e quant'altro ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul mio canale ciao a tutti ragazzi ciao a tutti